Oggi vedremo come installare la pellicola di Colorcore Moosters. Iniziamo allentando le viti di sostegno dell'LCD. Dopo, spostando la guaina di protezione, possiamo staccare l'LCD dal cavo. Continuiamo rimuovendo le viti e staccando il supporto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Con un taglierino, partendo dall'angolo, iniziamo a sollevare la pellicola originale. Aiutandoci con una tessera di plastica, facciamo sollevare tutta la pellicola. Una volta rimuovendo, sulle lcd giurranno dei residui della colla, che bisognerà rimuovere. con un pannetto e dell'alcol oppure prodotti apposta. Una volta finito, non ci resta di applicare la pellicola. qualora vi fossero delle bolle d'aria, aiutatevi con una tessera per eliminarle. Grazie per la visione! Una volta finito, riassemblate tutto e vediamo il risultato. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!